audizioni live musicultura unicam in cina intitolazione dell'aula master manager farmaceutici buonasera e benvenuti a questa puntata di unicam news vediamo il nostro primo servizio anche gli studenti unicam sono impegnati nelle audizioni live di musicultura si sono concluse domenica 10 marzo le audizioni live dell'edizione 2024 di musicultura che hanno visto impegnata anche la giuria composta dagli studenti unicam e coordinata dal professor daniele tomassoni nel corso delle dieci serate le studentesse e gli studenti hanno ascoltato tutte le proposte dei cantautori che ogni sera si sono esibiti sul palco del lauro rossi di macerata segnalando le proprie preferenze alla giuria tecnica del festival diretto da ezio nanni pieri pur avendo una formazione prevalentemente scientifica gli studenti giurati si sono messi subito all'opera concentrandosi su melodie testi arrangiamenti ed interpretazioni ospite d'eccezione nella serata di lunedì 4 marzo anche il rettore graziano leoni che al termine della serata ha consegnato la targa al vincitore del premio del pubblico della serata il gruppo del vento visita in cina del prorettore vicario unicam una delegazione unicam guidata dal prorettore vicario professore manuele tondi si è recata nei giorni scorsi in cina ed ha fatto visite a diverse università enti ed aziende con alcune unicam collabora da tempo per attività di formazione e di ricerca con altre stanno per essere invece avviate delle proficue collaborazioni intitolata a simone biscocci l'aula a del polo di san benedetto del tronto sono molto soddisfatto della vista in cina appena conclusa che ha avuto che ha avuto come filo conduttore la sostenibilità ambientale l'ocean university of china si affaccia sul pacifico a ching dao ed è leader nell'analisi nel monitoraggio ambientale quindi molto importante sviluppare con loro dei progetti che riguardano sia la didattica che la ricerca e in questa su questo tema a pechino abbiamo incontrato l'azienda di biotecnologie tangi con cui organizziamo un master di primo livello coordinato con la professoressa anna mariale uteri ed è stato molto gratificante incontrare i nostri ex studenti del corso di laurea in biotecnologie che abbiamo a gilin assunti con incarichi anche importanti a ho hot nella inner mongolia abbiamo incontrato l'academy of science e l'inner mongolia university insieme a stefano pallotti al dottor stefano pallotti di unicam e al dottor marco antonini della sede nea di unicam e qui abbiamo parlato del progetto ricerca discusso del progetto ricerca che da anni sviluppiamo in collaborazione con l'europiana coordinato dal professor carlo renieri e si è cercati anche di aprire diciamo la collaborazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale di questa importante risorsa appunto che è il cashmere quindi ringrazio tutti i colleghi che da anni collaborano con queste università e aziende cinesi e la nostra dottoressa yan ting zu del china office che ha coordinato e gestito tutti questi incontri cerimonia davvero commovente quella dell'intitolazione dell'aula a del polo didattico unicam di san benedetto del tronto alla memoria di simone bisbocci dipendente unicam in servizio presso le segreterie studenti proprio nella sede di san benedetto del tronto prematuramente scomparso lo scorso luglio presenti il rettore graziano leoni e la famiglia bisbocci così come molti colleghi e colleghe studentesse e studenti per i quali simone si è speso sempre con il sorriso sulle labbra nel corso della mattinata si è tenuto anche il conferimento del premio di laurea in memoria di simone bisbocci voluto dall'ateneo e dalla famiglia vincitrice è risultata la laurea in biologia della nutrizione francesca racciatti per la sua tesi su analisi dei polimorfismi del gene e del neuropeptide y al via nei giorni scorsi la ventiduesima edizione del master di manager in dipartimenti farmaceutici alla presenza record di 300 partecipanti provenienti da 19 regioni italiane e di tutta la governance dell'ateneo ha preso il via nei giorni scorsi a san benedetto del tronto la ventiduesima edizione del master di secondo livello in manager di dipartimenti farmaceutici diretto dal professor carlo cifani docente della scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute il master risponde pienamente alle crescenti necessità che emergono nel mondo della professione nelle strutture ospedaliere e la sua longevità è dovuta proprio alla capacità e rapidità di far fronte alle continue evoluzioni del bagaglio di competenze tecniche e manageriali richieste al farmacista gli sfidi nell'ambito dell'innovazione con farmaci e dispositivi medici nuovi percorsi di cura evoluzioni delle tecnologie evoluzioni dei ruoli organizzativi e di governance una intera sessione didattica sarà realizzato presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Buergamo che è uno tra gli ospedali tecnologici più avanzati a livello europeo è un master di riferimento a livello nazionale tant'è vero che in questa edizione partecipano più di 70 aziende farmaceutiche è un master che negli anni ha saputo rinnovarsi ha saputo aggiornarsi ha avuto la capacità di interagire sempre comunque costantemente con il mondo dell'impresa, con il mondo delle aziende, con gli enti, con le istituzioni e questo spiega il successo Abbiamo in Unicam una trentina di master i nostri master chiaramente vanno a completare una formazione che eroghiamo con quasi altrettanti corsi di laurea in discipline che sono le più varie e quindi è una formazione che veramente arriva poi a creare dei professionisti in tanti ambiti Per essere sempre aggiornati su tutte le attività di Unicam vi invitiamo a consultare il sito web dell'università se non che la pagina facebook istituzionale di Unicam quindi Università degli Studi di Camerino www.unicam.it oppure potete chiamare il numero verde al numero 800 0 5 4 0 0 0 0 Questa era l'ultima notizia di Unicam Grazie e alla prossima edizione Grazie a tutti